Salve, qualche giorno fa sono stato invitato alla presentazione di un libro presso l'Assirem, un'associazione di medici specialisti che si occupano di malattie del sonno, diciamolo semplicemente così. L'argomento mi ha subito interessato e i relatori in modo semplice comprensibile hanno spiegato che normalmente si tende a dormire di meno, ciò non è corretto, soprattutto ci sono casi più o meno gravi, molto diffusi, di insonnia, cioè incapacità di dormire regolarmente con i risultati importanti che una buona dormita può dare. Il sonno è un'esigenza primaria, fondamentale della vita. È essenziale tenerne conto. Ci è stato spiegato che non è semplice né difficile curare l'insonnia, ma certamente è possibile. È possibile se invece di ricorrere a rimedi empirici della nonna o prendere quantità di farmaci che potrebbero anche aggravare il problema, ci si rivolge a dei medici specialisti dell'argomento. Non ce ne sono moltissimi in Italia, ma è un'area in cui ci sono molti medici all'estero e comunque anche il numero in Italia sta crescendo e presentare il problema in una serie breve di sedute, non occorrono molte sedute, non occorre molto tempo, avere i suggerimenti necessari o comunque utili per rimediare al problema dell'insonnia. Rimedi che assecondano cure farmacologiche appropriate con suggerimenti comportamentali e penso che questo sia un fatto estremamente importante da sapere, perlomeno lo è stato per me. Altro argomento che mi ha particolarmente colpito è il fenomeno degli adolescenti che vanno a letto, ormai in gran numero, con il telefonino e cominciano a giocare con il telefonino. Ebbene quella luce che viene emessa dai telefonini è dannosissima perché attraverso gli occhi direttamente influisce sulla produzione di melatonina che è necessaria, fondamentale, produzione naturale di melatonina che è fondamentale per dormire bene. Bene, non mi resta altro da dire.